Eccoci qua, Sant'Anna in vista, 10 agosto 2021, oggi il compleanno di chi? Beppe, eccolo qua, 87 anni oggi, sta salendo su da Vinaglio a Sant'Anna di Vinaglio con tutti gli amici che l'accompagnano. Eccola, c'è un'altra stupenda, 10 agosto 2021, si sale su, panoramica dei ciclisti a amici di Beppe, eccolo qua, e lo raggiungiamo, e lui eccolo, per festeggiare gli 87 anni, si fa una pedalata a Sant'Anna di Vinaglio.